Si chiama Michler Gabriel a 38 anni d'età, è un detenuto del carcere di Olean Road di Tampa in Florida negli Stati Uniti d'America e sarebbe stato accusato di percorse aggravate perché avrebbe malmenato una guardia carceraria. L'uomo avrebbe rifiutato di allontanarsi da una porta mentre stava per essere trasferito in un'altra ala del carcere in Florida e poi avrebbe colpito più di una volta in faccia la gente che ha riportato diverse ferite. E' stato trasferito al Tampa General Hospital, la scena è stata ripresa da parte delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato l'evento in maniera intera e soprattutto in maniera completa. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, un saluto caro da Leandro, il vostro narratore italiano di YouTube Italia. Iscrivetevi mi raccomando se vi va a questo canale di YouTube, narratore italiano, commentate e datemi le vostre opinioni. Un saluto nei cari a voi, al prossimo video e una buona giornata da parte mia. Grazie.